una santa serata a tutti amici e amiche carissime bentornati a chi sta ascoltando la diretta benvenuti o bentornati a chi ascolterà la differita di questa seconda puntata di questo ciclo di catechesi dedicato a un bellissimo viaggio straordinario e fantastico in un'altra dimensione dove ci porta tanto per reintrodurre il tema quella bellissima rivelazione privata ricevuta da un astrofisico messicano alla fine degli anni 70 tradotto in italiano da don pablo martin che come vedremo ci porterà dentro una serie di bellissimi orizzonti ci farà conoscere meglio per chi la conosce già un po anche la divina volontà e ci farà conoscere molte delle cose che ci siamo perse in questa vita quindi come già accennavo è questo ciclo di catechesi è collegato a doppio filo con quello fatto l'anno scorso sull'ipotesi teologica sull'origine del peccato originale anche perché gli succede cronologicamente quindi finito quello stiamo cominciando quest'altro e quindi proseguiamo la lettura senza indulgere troppo perché avremo veramente tantissime cose da da vedere da approfondire da gustare e anche un pochino da spiegare per alcuni passaggi certamente vedremo che sono un po belli ma anche di un certo livello perché questa ragazza sa che sta parlando con un nastro fisico e quindi a volte per rivelare o per parlare di alcune cose dell'altro mondo cerca di far capire alcune opere di dio in maniera evidentemente adeguata al tasso culturale della persona che vi sta davanti io anche non sono un grande esperto di fisica e di teoria della relatività di einstein ecco ciò riminiscenze degli studi diciamo i miei studi si sono poi concentrati ampiamente sul settore umanistico non scientifico quindi raccapezzo qualcosa ma non benissimo quindi però quel poco che raccapezzo cercherò quando arriverà l'ora insomma di metterlo di metterlo in comune allora mi sembra che la volta scorsa io ho perso il segno abbiamo cominciato è apparsa questa questa ragazza ha cominciato a farsi in qualche modo riconoscere e lei era un po e lui era un pochino rimasto perplesso quando quando gli ha detto che era la stessa ragazza che aveva cantato nella nella sua infanzia no perché appunto questa è una ragazzina ma questo fatto è successo 48 anni fa e quindi questa sarà sarà morta no quindi vorrei riprendere adesso non so se esattamente il punto dove ci siamo fermati ma più o meno è questo e cioè quando avviene il momento in cui lei le dice guarda che io sono quella che cantava questa famosa canzoncina pacarera che ti risvegliò ti fece sorgere per la prima volta il primo sentimento di amore passionale no e riprendo la la lettura chiarificare un ricordo quindi se probabilmente abbiamo chiuso intorno a questa a questa a quest'area volta scorsa questo dovremmo averlo già letto quello che sto rileggendo però così ci ci rimettiamo un po in carreggiata chiarificare un ricordo ritornare quasi a viverlo mi pareva un'esperienza affascinante ovviamente non potevo sospettare le meraviglie che stavo per vivere che mi attendevano in questo straordinario incontro soltanto lamentavo che mi accadesse alla fine della vita quale gioia rivivere il più grato ricordo di un amore ingenuo di tutta l'esistenza presto però il mio gaudio divenne inquietudine non starò forse immaginando soltanto dopo tutto chi è realmente questa bella giovane perché indubbiamente si tratta di due persone diverse sebbene si rassomiglino molto non possono essere la stessa perché per quanto perché siamo a distanza di più di 50 anni di più di 45 anni dico dice suppongo che tu sia la nipote di quella bella giovane che conobbi in casa delle signore nel campus non è vero no io sono la medesima ragazza del cantone alla tua infanzia questo non può essere dissi a me stesso probabilmente sono infermo e nella siesta sto facendo un piacevole sogno e se è così non sarebbe meglio lasciarmi trasportare da esso anziché distruggerlo con i miei insistenti cavilli è preferibile fomentare questa affascinante illusione arriverà il momento di svegliarmi e forse allora dimenticherò questo prodigio ciò nonostante come avvenne il chiarimento del mio ricordo probabilmente fa parte della trama di questo sogno e in tal caso non vi fu nessun chiarimento oppure in questa siesta la mia memoria retrograda di anziano riesce a mettere a galla nella mia fantasia l'antica immagine originale stavo riflettendo su questo quando lei insistette ti assicuro che non stai sognando sono io quella stessa donna del tuo ricordo faccio notare facciamo qualche parola di commento che gli ha letto il pensiero lui non stava parlando ad alta voce stava pensando dice ma che sta a succedere qui il tono della sua voce era convincente un certo qualche cosa mi spingeva a crederla in quel momento io non mi spiegavo come poteva lei indovinare il mio pensiero soltanto dopo venne a saperlo adesso il pazzo sono io dissi perché non ci capisco proprio niente non ti preoccupare risponde tenera amata tutto questo te lo vado a spiegare se tu prometti di non stare ad inquietarti più calmati per favore altrimenti dovrò andarmene no no questo no perdonami e parla mai avevo chiesto il nome della giovane dei miei ricordi dell'infanzia mi sarebbero piovute burle rimproveri e sani consigli intuì che dovevo tenere in segreto ciò che riguardava il mio primo amore a quell'epoca dichiarare apertamente che un bambino di otto anni si era innamorato sarebbe stato quasi un sacrilegio da molto tempo mi ricordò hai chiesto all'altissimo che durante la tua vita immortale ti facesse conoscere come la vita futura non è così infatti gliel'ho chiesto più di vent'anni fa ma allora vuoi dire che io sono morto vuoi dire che calmati per favore mi interruppe non sei morto ancora ed io sono venuto a parlarti un po' di com'è la vita eterna questa intervista te la faccio col desiderio di ottenere per te una maggiore umiltà un desiderio ardente della vita futura uno sprone affinché eserciti l'autentica carità cristiana e una migliore conoscenza dell'amore che ha per te il nostro dio pit stop obbligato qui dobbiamo questo è un punto chiave uno snodo fondamentale no allora numero uno vedete aveva chiesto al signore che durante la tua vita mortale ti facesse conoscere come la vita futura e il signore l'ha esaudito vent'anni dopo attenzione ai tempi no perché quindi conserviamo sempre una buona una buona memoria se noi chiediamo una cosa buona al signore un po' grossa come in questo caso ma che lui reputa utile al nostro bene ce la dà ce la concede ed è quanto è buono il signore ecco perché non dobbiamo stancarci di con molta umiltà pregarlo anche esporgli umilmente i nostri santi desideri sapere qualcosa della vita futura qualcosa è una cosa buona non è che uno vuole come dire bucare i misteri insomma o andare prima del tempo però insomma e Teneramata spiega le quattro finalità per cui concede questa intervista perché adesso vedremo che il libro si snoda così è un'intervista praticamente lei concede a lui di fargli una serie di domande qualche cosa le dice di sua iniziativa ma di fatto è un dialogo sembra un'intervista sembra allora finalità di questa grazia quattro una maggiore umiltà da che cosa può derivare io che ho letto già setto otto volte questo questo testo credo perché ne rimasti talmente affascinato come lo sono riletto 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 umiltà perché ci si trova dinanzi a delle cose veramente impressionanti e che ti fanno che ci fanno comprendere come noi intelligentoni anche persone magari di di fede tante cose le ignoriamo perché il patrimonio di fede che noi abbiamo cioè dire per esempio credo la vita eterna noi dobbiamo crederci per carità ma il dogma di fede i dogmi di fede sono 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 tutti quanti così sono verità non riempite però al momento di un contenuto perché non lo conosciamo bene il contenuto d'accordo c'è gente che è fantastica per esempio anche sulla base di alcuni dati della saga scrittura che però molte volte parla attraverso immagini non attraverso cose che realmente accadranno così come vengono descritte non mi ricordo mi sa dopo una diretta dell'altro giorno ecco il catechismo è un esempio decimo che si parlava della vita eterna ma alla fine del mondo viene distrutta tutta la creazione ma come succede che Dio distrugge qualcosa dico Dio non distrugge proprio niente non distrugge lo vedremo qui Dio non distrugge nulla di quello che ha fatto quindi non ti andare a fantasticare questa cosa qui a meno che Nostro Signore non si degni di fare qualche altra rivelazione se vuole dare dei dettagli sulla vita del mondo che verrà e sulla nuova creazione qui però alcuni ne vengono dati e alcuni smontano per esempio alcune tradizionali supposizioni che noi abbiamo specialmente tutto ciò che riguarderà come vedremo la quinta dimensione secondo un desiderio ardente della vita futura desiderio ardente della vita futura che amici miei facciamo in modo di stimolarlo in qualche modo perché è una delle cose più gradite al Signore ve lo dico da sacerdote quindi che un'anima desideri ardentemente il cielo noi non siamo stati fatti per questa terra nel senso che tutte quante le bellezze della vita terrena le cose belle che il Signore ci mette dinanzi noi le viviamo con gratitudine abbracciamo ancora con ancora più amore le croci perché ne conosciamo la valenza soprannaturale ma io dico sempre che una vita di un cristiano comincia a funzionare quando la sera quando andiamo a letto facciamo un bella avete visto quando i calciatori segnano i gol facciamo un bella l'alè perché ci manca un giorno di meno un giorno di meno alla pienezza della vita tutto quello che noi viviamo nella Chiesa serve solo a questo cioè Gesù Cristo è venuto a morire in croce per portarci in paradiso voi pensate alla miopia di certi orizzonti ecclesiali attuali che appiattiscono tutto quanto su questa dimensione la Chiesa sembra che oggi è capace di dire una parola di occuparsi soltanto di problemi sociali politici economici per carità anche queste cose hanno bisogno di risposte e anche di risposte illuminate dalla fede per carità ma tutto qui non è nostro compito insegnare agli uomini come si vive la vita terrena nella maniera migliore possibile nostro compito è insegnare agli uomini come come si arriva in paradiso e anzi come in paradiso si arriva cercando di andare il più in alto possibile per godere di più a questo serve la Chiesa se si perde questa dimensione amici cari cioè si come dire si si tramuta non realmente ma apparentemente di facciata nel cuore di qualcuno ovviamente la Chiesa in qualcosa di altro ma che non esprime la sua essenza la sua vocazione la sua missione la sua ragione d'essere il motivo per cui Gesù l'ha creata e l'ha fondata e l'ha mandata nel mondo terzo uno sprone affinché eserciti l'autentica attenzione carità cristiana non qui subito pensiamo alle opere di carità verso il prossimo questo ci abbiamo questo probabilmente quindi se qualcuno non pensa prima a questo e pensa ad altro Dio lo benedica e onora al merito e mi rimangio quello che ho detto qui carità nel testo è scritto con la C maiuscola la carità non è anzitutto l'amore del prossimo perché come parliamo a catechismo i due precetti della carità sono il primo amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le due forze il nostro rapporto con Dio deve polarizzarsi anzitutto sull'amore ma non quell'amore come dire io lo chiamo l'amore chiacchierato cioè l'amore chiacchierato anche in maniera stile aria fritta no ah l'amore di Dio all'amore di Dio a Dio mi ama a Dio mi perdona a Dio ci vuole bene quindi cioè ma com'è il tuo personale rapporto con Dio il testo ebraico dello Shema Israele dice amerai il Signore tuo tuo con tutto il tuo cuore behol levavecha quel ha finale in ebraico è il suffisso della seconda persona personale della seconda persona singolare il tuo cuore behol meodecha ancora tutte le tue forze forze e con tutta la tua anima attenzione tutto non un po' il tuo cuore il tuo attenzione su questo tuo cioè è un fatto personale ma è anche un fatto personale che tu solo vivi come lo vivi tu lo vedremo in tenera amata la tua anima che è diversa da qualunque altra anima che Dio abbia creato lo vedremo tra poco forse oggi stesso e con tutte le tue forze che siamo capaci di dare al nostro Signore che opere siamo capaci di portargli che sacrifici siamo capaci di dargli quanto siamo capaci di dare al Signore il Signore vuole da noi non è che possiamo soltanto prendere cioè in un rapporto di amore a due si prende ma pure si dà che gli abbiamo dato fino ad oggi al Signore quanto abbiamo sofferto per Lui cosa gli abbiamo offerto quante notti passate con Lui quante ore passate con Lui e poi ultima cosa una migliore conoscenza dell'amore che ha per te il nostro Dio tutto quello che si è inventato parte di quelle cose di cui San Paolo scrive quelle cose che occhio non vide né orecchie udine mai entrarono in cuore d'uomo queste ha preparato Dio per coloro che lo amano se ne ha inventate parecchio il nostro Signore è un grande inventore è un grande architetto è un grande artista va bene andiamo avanti lui riprende Riccardo mi credevo morto e non lo sapevo che serio deve essere il passaggio della morte se il solo sospetto di averlo fatto mi incute tanto spavento non sono venuto ad inquietarti insistette ma a portarti pace allo scopo che il Signore per mia mediazione attenzione ti aiuti a trasformare alcune verità che la fede ti ha insegnato in convinzioni profonde operative arrivo al punto dopodiché altro pit stop obbligato convinzioni profonde operative alcune di queste nozioni le conosci superficialmente ci credi e le professi con sincerità ma le hai approfondite assai poco è che ti abbaglia l'attuale progresso scientifico e di fronte adesso ciò che ti insegna la religione ti sembra antiquato e privo di sostanza tuttavia spalanchiamo bene le orecchie scienza e fede hanno la stessa origine divina non esiste né ci può essere contraddizione tra loro perciò sono venuta per chiederti come si coordinano ammirabilmente la parola divina con alcuni postulati attuali della sincera scienza umana per i mortali non c'è nessun mistero del mondo fisico che non punti verso un altro mistero più profondo e trascendente comprendo che tu sei che se tu sei un grande enigma per te stesso è logico che ti riuscirà difficile capire le nozioni celestiche voglio spiegarti perché vai a svolgere il ruolo di attore e spettatore tu sei parte del mondo che oggi vai a esplorare dovrai collaborare con Solerzia ricorda però che l'uomo attua non tanto per l'evidenza dell'amore delle verità che conosce quanto per le convinzioni che ama d'altronde la divina pedagogia è lenta va d'accordo con la piccolezza umana ed è progressiva perché in un certo qual modo dipende dalla perfezione culturale dell'uomo raggiunta col proprio sforzo e con l'aiuto dell'altissimo un po' si quietò il mio timore non tanto per le riflessioni che lei mi faceva quanto per la sua bellezza incantevole allora altre considerazioni molta gente anche tra le persone buone sapete che oggi nel panorama del popolo di Dio chiamiamolo così della Santa Chiesa di Dio ci sono varie distinzioni vari strati varie categorie la maggioranza oggi ama definirsi con quella cosa che è una contraddizione in termini non entreropero in questo discorso i cattolici non praticanti i credenti non praticanti che è una castroneria grossa quanto una casa però ho parlato tante volte in tante omelie fino alla nausea quindi non parliamo di questo poi ci sono i cattolici praticanti la categoria più problematica altre omelie cult che ho fatto a riguardo sono i praticanti non credenti cioè sono quelli che veramente manco il catechismo dell'ABC quindi la loro pratica è semplicemente una cosa abitudinaria magari sono anche persone buone nella vita attenzione quindi brave persone ma non hanno attinto niente dalla fede perché sono come dire non vorrei essere offensivo però si capiscono quello che sto dicendo come delle macchine quindi vanno a compiere un rito per abitudine ma non assimilano niente non pensano che la fede possa essere qualche cosa che ti spalanca orizzonti di vita inediti e che ti trasforma completamente il senso della vita e quindi anche poi la tua vita concreta anche questa poi ci sono quelle anime buone il cerchio si fa sempre più restringendo che sono cattolici praticanti alcuni sono anche molto molto assetati molti non trovano delle fonti dove andare a bere hanno sete ma nessuno gli dà da bere ok qualcun altro fa un po' troppo il saccentello nel senso che si accontenta di alcune cose che effettivamente conosce dal catechismo e che ha approfondito e si ferma ed è qui che comincia che si situa anche quest'uomo presumibilmente alcune di queste nozioni le conosci ma superficialmente ci credi e le professi con sincerità ma le hai approfondite assai poco adesso faccio subito un esempio io sono tanti anni che faccio il parro io sono sempre stato come dire molto attivo nella formazione e adesso stasera sto ciclo di catechesi pare che sia particolarmente gradito insomma no a diretta sta intorno alle 140 persone ma è molto difficile a meno che non ci siano degli eventi completamente eccezionali da un'area in una parrocchia anche di grandi dimensioni 140 persone difficile anche se sono un grandissimo predicatore insomma anche a meno che non ci siano dei fenomeni veramente internazionali no e chiaramente poi non basta la diretta perché la catechesi della settimana scorsa su Tene Lamata ho visto nei giorni scorsi aveva superato le 5.000 visualizzazioni per i miei modesti numeri parlo soltanto di YouTube 5.000 visualizzazioni in una settimana è tantissimo cioè dove potrebbe un parroco fare una una cosa di questo genere quindi come dire avere la possibilità che quello che mette in comune raggiunga un target così grande di persone non lo avrebbe perché le persone che hanno il desiderio di approfondire nelle singole parrocchie sono poche sono cioè su una parrocchia di 10.000 abitanti di gente che ci abbia voglia di approfondire guardate che non sto esagerando forse ce ne saranno 20 perché quei 10.000 abitanti chiaramente non sono tutti quanti quei 10.000 abitanti già devi farci la latara che stiamo al 10% quindi da 10.000 diventano 1.000 i più o meno che in qualche modo compaiono quelli che sono assidui diventano 500 dentro questi 500 ci stanno quelle tre categorie che ho detto prima quindi sto parlando di una parrocchia di 10.000 abitanti sono tanti eppure è così importante approfondire la fede perché se tu non approfondisci se tu non approfondisci non diventeranno mai queste cose convinzioni profonde e operative cioè chi mi conosce lo sa ma se uno ci crede veramente alla vita eterna vive in un altro modo oggi è venerdì è il giorno di digiuno per chi ma uno perché deve fare il digiuno scusate uno che fa il digiuno sta male perché soffre a non mangiare quelli che amano la Madonna dicono voglio fare faccio un regalo alla Madonna è bellissimo ma se tu hai una convinzione profonda e operativa per esempio che il nostro Signore neanche un minimo buon pensiero non te lo ripagherà profumatamente un digiuno è un altro ascetico significativo e tu pensi che il nostro Signore non te lo paga profumatamente in paradiso allora se uno ha questa convinzione profonda e operativa che succede se sveglia venerdì mattina e dice no oggi guarda proprio oh me va non ce la faccio non ce la posso fare oggi non ce la posso fare il Signore dice dai cioè sforzate un po' dai grande sarà la ricompensa e non ha dubbi su questo capite perché ci crediamo veramente la convinzione profonda e operativa se ci credi veramente può darsi che riesci a vincerti dice vabbè famolo lo stesso dai anzi più una fama è meglio tanto la vita quanto io ho 50 anni quanto posso campare ancora altri 50 anni e vabbè ci avremo un altro migliaio di digiuni ma poi c'è la vita che non finisce mai che sono 50 anni che è in digiuno non è niente qui si aspettano trilioni di trilioni di trilioni capite che significa la vita eterna che non finisce mai esclusivamente di godimenti e il tasso di questi godimenti dipende anche da quanti digiuni è fatto in questo mondo anche da questo non solo da questo certamente ma anche da questo perché non è la stessa cosa a tutti presenti dinanzi al nostro Signore morendo a 100 anni che hai fatto 3000 digiuni da chi non l'ha fatti per niente cioè ci pensiamo mai a queste cose guardiamo anche il bene no? convinzioni pratiche e operative allora dice perché non approfondisci la fede questo era un uomo di scienza era uno scienziato perché tu ti pensi che tante risposte che un tempo dava la fede adesso ce le dà la scienza e quindi la fede fondamentalmente non serve cioè la religione ti sembra antiquata è priva di sostanza ma quanta gente pensa a questo qui? tantissimi e dice non è così non è proprio così e infatti dentro quest'opera certamente sono quelli i momenti in cui diventa un po' più difficile lei cerca di mostrarle come alcune verità scientifiche comprese quelle relative agli atomi alle fissioni alle fusioni nucleari si coordinano ammirabilmente con la parola divina perché la fissione nucleare la fusione nucleare ecco perché quest'opera è strettamente connessa con tutto quanto il mondo della divina volontà rivelato dal signore a Luisa Piccarreta chi conosce questo mondo sa una cosa cioè una delle cose importanti di questo mondo è imparare a interagire con l'amore di Dio attraverso il creato le cose che lui ha creato che significa? significa che se io per esempio penso a cioè a come sono fatto io per esempio adesso sto parlando noi non ci pensiamo mai a queste cose ma il fatto che io parli è un prodigio il fatto stesso di parlare deve farmi esplodere di amore verso Dio sperando di non parlare troppo a vanvera perché parlare vuol dire che c'è un pensiero che sta connettendo vuol dire che questo pensiero che si forma nel cervello c'è tutti quanti i suoi centri di trasmissione la rilaborazione in suono il possedimento di una lingua i concetti i vocaboli le corde vocali che funzionano la bocca che si muove in un certo modo per pronunciare le parole la saliva che concorre quando abbiamo una bocca secca dobbiamo dobbiamo bere un po' se non riusciamo più a parlare ma che pensiamo a queste cose qui sono cose in cui Dio non c'entra Dio c'entra e come? Dio c'entra e come? nella velocità che la terra ha lo vedremo girando intorno al sole mi pare che sono se non ricordo male 108 mila chilometri all'ora stiamo viaggiando a 108 mila chilometri all'ora tutti quanti abbiamo l'impressione di stare fermi ok wey quella non è semplicemente una cosa beh gli scienziati hanno studiato hanno visto che la terra viaggia 108 mila chilometri all'ora e quindi e quindi perché viaggia 108 mila chilometri all'ora? chi ce la fa viaggiare a questa velocità e perché? cioè è tutto quanto un orizzonte che si apre e si dilata e che in queste cose anche in queste cose quindi la scienza non è un ostacolo per la fede è un aiuto io dico sempre magari ci avessi tempo magari di aprirmi un libro di anatomia di aprirmi un libro di zoologia di aprirmi un libro di botanica di chimica ma chi ce l'ha purtroppo ma farlo adesso ah io starei in estasi tutto in estasi non in estasi come i santi ma in estasi nel senso in brodo di giugio per tutto il tempo perché ogni riga che dovessi leggere dico ma che te sei inventato comincia a dire il nostro signore ma che te sei inventato cioè lo farei proprio con occhio venerante adorante contemplando in tutte quelle cose delle opere divine la varietà delle specie animali la varietà delle piante degli alberi io mi piace tanto vi passeggiare in montagna andammene in giro specialmente l'estate non so distinguo un pioppo da un abete me ne vado in giro in quei bellissimi boschi certo respiro a pieni polmoni metto un sacco di ti amo ma dico so manco dove metto il ti amo perché io non mi mica lo riconosco un pioppo da un abete perché non ho approfondito perché perché non siamo duttologi in questo mondo ecco ora spiega ti è arrivato attenzione che c'è una difficoltà perché io adesso sono entrato in un'altra dimensione tu sei ancora coinvolto dentro questa quindi ci saranno un pochino di difficoltà perché tu dentro questo mondo non sei solo spettatore come me ma sei anche attore perché ci stai dentro e quindi sarà un pochino difficile però sta attento però una cosa molto importante quindi qui tenere la Mata sposa le posizioni della scuola francescana l'uomo attua non tanto per l'evidenza delle verità quanto per le convinzioni che ama come diceva Santa Teresina è l'amore quello che ci fa fare qualunque cosa ecco perché la quintessenza anche di chi vive nella volontà divina è un rapporto con Dio sintonizzato sul primo comandamento perché se tu a Dio lo ami veramente come dice la Santa Teresina dice se la Chiesa perde l'amore io nel cuore della Chiesa sarò l'amore e che succede i martiri non si faranno ammazzare in mezzo ai tormenti per l'amore del Signore perché perché fanno una cosa del genere ma noi ci pensiamo a quello che hanno passato i martiri perché lo amavano al Signore se non l'avrebbero fatto i missionari che partono e lasciano tutto e vanno a portare il Vangelo dall'altra parte del mondo soffrendo tanto perché lo fanno per amore i dotti e i predicatori che si affaticano nella predicazione nell'insegnamento perché lo fanno per amore gli asceti che fanno super penitenze e pregano per tutto il mondo perché lo fanno per amore una coppia anche umana funziona quando i due si amano perché se i due si amano si fa qualunque cosa si supera qualunque difficoltà si accoglie qualunque difetto si perdona qualunque sgarbo è importante che comprendiamo queste cose molto importante passiamo al terzo paragrafo andiamo a vedere un po' che aria tira che cominciamo a entrare un po' nel merito nel processo di formazione delle tue convinzioni profonde operative sto riprendendo la lettura proseguire a bella ragazza io sarò formazione delle tue convinzioni profonde operative salviamo questa frase convinzioni profonde operative che derivano dalla fede si può essere convinti di una cosa che di per sé appartiene alla fede e quindi è inevidente non potrei mai dimostrare ma ne puoi essere convinto ha voglia a te ha voglia ha voglia nel processo di formazione delle tue convinzioni profonde operative io sarò semplicemente un povero e debole strumento dell'onnipotente il quale tuttavia non vuole costringerti ma rispettare la verità morale che lui stesso ridiede ah qui vogliamo fare altro pit stop forza ah guardate questo è proprio una legge assoluta per l'altissimo l'altissimo non costringe nessuno l'altissimo rispetta la libertà morale perché è lui stesso che c'era data e l'altissimo non si contraddice mai c'è molta gente che non capisce dice ah ha creato lucifero sapendo che quello sarebbe diventato il diavolo e che avrebbe distrutto tutto qual è il problema è che siccome uno diventa un pazzo e distrugge tutto Dio si priva di creare miliardi di angeli e quindi dare anche la perfezione della gioia a quelli che sono buoni mica gli ha ordinato lui a lucifero di diventare cattivo ma non gli ha impedito di farlo perché per essere immagine e somiglianza di Dio e quindi capace di goderlo tu devi essere libero e se sei stato creato libero Dio che potrebbe forzare la libertà per lui sarebbe un gioco da ragazzi ma non lo farà mai perché sarebbe rinnegare andare contro se stesso questo non lo farà mai e non lo farà mai anche perché quello che ha fatto è perfetto così com'è e quindi Dio non può rinnegarlo come noi una cosa che abbiamo fatto noi rinneghiamo avete visto mano a mano che cresciamo uno si guarda indietro a me quante volte è successo di questa cosa che ho fatto ieri io non la riferei o non la riferei allo stesso modo o non la ridirei o non la ridirei allo stesso modo ma questo da cosa dipende il fatto che noi siamo imperfetti ma Dio se fa una cosa non ha la possibilità poi di ma forse potevo farla un po' meglio rifacciamola non funziona così quindi occhio anche quando spariamo sentenze sull'altissimo cioè rendiamoci sempre proviamo a renderci conto perché non ci rendiamo conto di chi è colui dinanzi al quale stiamo per la perfezione assoluta allora io sono uno strumento lui non vuole costringerti ma rispettare la libertà morale che lui stesso ti vede e attenzione a cosa dice perciò se preferisci me ne andrò immediatamente senza che nessuno si dispiaccia o si senta offeso per questo desideri che me ne vada ma spettacolo no no rimani per favore scusa la mia confusione continua vedete primo esercizio di libertà la sua voce la sentivo categorica e non riuscivo ad immaginare in quale modo stavamo comunicando mi sembrava molto sicura di sé e la sua bellezza mi catturava sempre di più ad ogni modo pensai sono molto contento per il solo godere della sua presenza e della sua figura quantunque potrebbe essere un'impostura ma allora come fa a darmi antichi particolari di date e persone lo strano freddo mi tormentava di nuovo le mie articolazioni erano gelide non potevo muovere un dito nemmeno un dito la trenta adolescente si era seduta a me vicino sul sofà che fa squadra con la mia poltrona ci dividevano i braccioli dei sedili e il tavolino dove stavano la tazza di caffè e il pacchetto di sigarette come si indovinasse che stavo morendo di freddo la bella ragazza si chinò verso di me e con i polpastrelli delle dita della sua mano destra sfiorò livemente il dorso della mia mano sinistra che giaceva gelata sul bracciolo della poltrona questo semplice sfioramento bastò a comunicarmi calore vitale e tranquillità e ricordiamolo questo particolare più avanti spiegherà perché si sentiva gelato e perché lei faceva questi questi piccoli contatti facendolo restituendo il calore vitale no? dipende dalla 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 particolare diciamo così dalla particolare frequenza temporale in cui questa esperienza stava accadendo comunque poi lo vedremo suppongo mi disse con un certo tono scherzoso che ormai ti sei reso conto che stai parlando con una defunta una defunta ma come poteva essere defunta se la vedevo così bella e piena di vitalità i morti hanno un aspetto orribile io ho visto morire diverse persone mai ho notato contemplando il volto di un cadavere nemmeno quel sorriso di pace che alcuni congiunti assicurano di avere visto potrebbe trattarsi anche di un fantasma però gli spettri di oltretomba che in realtà esistono soltanto nelle menti citati da romanzi di mistero racconti e film d'orrore li dipingono sempre repulsivi ovviamente non poteva accettare che lei fosse un fantasma ma nemmeno mi sembrava un cadavere ma allora ma chi sarebbe questa mia preziosa compagna non mi incudeva affatto nessuna paura anzi anzi molta felicità lei mi piaceva lei mi piaceva moltissimo attenzione a questo particolare mi piaceva moltissimo ma io mi sentivo perplesso dinanzi all'enigma della sua presenza sì affermò sono una defunta o meglio lo fui già che adesso sono una beata davvero non hai paura di continuare la conversazione con me no no certo che no anzi sapendo che sei una glorificata vorrei farti tante domande e fammele appunto per questo sono con te ti risponderò fino a dove potrò perché devo dirti che non sono una beata importante ricordiamolo questo particolare sono molto inferiore ti spiegherò dopo il motivo cioè tutte le cose che questa anima racconterà e che anche lei vive le vive una di basso livello quindi una che sta molto in basso in paradiso quindi figuriamoci chi sta più in alto mi era difficile però riconoscere che stavo conservando niente che stavo conversando niente meno che con una bellissima abitante del cielo ma lei lo diceva e la sua bellezza mi ha affascinato le avrei creduto tutto è credibile se in verità sei la stessa giovane che conobbi da bambino adesso che sei glorificata dovrai sapere quanto tu significhi per me lo so ma mentre fui viatrice seppi del bambino niente seppi del bambino che accanto a me si struggeva d'amore mentre io cantavo la pacarera invece dopo che fui glorificata il nostro Dio mi parlò del primo amore che io ti avevo ispirato capito Dio gli era detto guarda che quel bambino mentre tu cantavi ha avuto i suoi primi palpiti d'amore gli era detto l'altissimo ora facciamo un pit stop ma a chi di noi si andrebbe a immaginare che l'altissimo vada a rivelare ad una persona che si trova glorificata che lei è stata la causa del primo amore di un'altra persona di cui lei ignorava di esserlo ma a qualcuno di noi ce l'ha mai passato per la pre-anticamera del cervello questo per il proposito di convinzioni profonde e operative cioè già pensare su questa cosa qui noi capiamo come l'idea di Dio guardate che Dio come dice San Giovanni Dio nessuno l'ha mai visto il figlio unigenio del padre lo ha rivelato ma il problema è che Gesù è venuto a compiere la nostra redenzione quindi un aspetto molto molto specifico molto molto particolare ma ditemi se qualcuno si immaginerebbe una cosa di questo genere e cosa comporta un particolare di questo genere nella idea che io mi sono fatto di Dio riprendo la lettura compresi quando seppi la volontà ammirabile del Signore teniamoci forte questa è la prima bomba che Lui ci ha destinati affinché tu e io realizziamo in cielo un amore meraviglioso che non abbiamo potuto godere sulla terra tu eri un bambino di 8 anni ed io ho una giovane in età di essere sposa il nostro amore in quanto viatori rimaneva frustrato in quanto viatori mettiamoci 40 sottolineature lì sotto allora attenzione questo beat stop per forza la volontà ammirabile del Signore ha creato questa ha creato lui questo rapporto questa attrazione tra queste due persone una creazione che sulla terra manco era conosciuta la sauta quel ragazzino per quei 10 minuti in quarto d'ora mezz'ora che è rimasto a sentirsi quella quella canzone e poi se la sapeva ognuno a casa sua quella non ha più stata tutta la vita quella manco sapeva che che esisteva Riccardo Hernandez si sono tutte e due sposati hanno fatto tutte e due una famiglia destinati perché realizziamo in cielo un amore meraviglioso come sarà quest'amore meraviglioso del cielo è un amore platonico o è un amore passionale uguale a quelli della terra compresi certi atti impossibile perché Gesù ha risposto ai Sadducei che in mani non si prende marito e moglie e allora che razza d'amore è che amore è lo vedremo poi perché dici il nostro amore il mio amore per te era ed è evidente ma il tuo amore per me risposta niente succede per caso l'intelligenza infinita tiene minuziosamente stabilito tutto dentro la volontà libera dell'uomo la sua divina provvidenza lo causa e lo permette ogni amore onesto della terra mai viene frustrato nella vita eterna attenzione ogni ogni amore virtuoso è necessariamente reciproco se non si realizza in questo mondo si consumerà in un modo ineffabile nel cielo perché sin dall'eternità fu voluto e stabilito dall'altissimo prosegue vuoi dire degli amori falliti di questo mondo si di tutti gli amori reciti il signore colloca in questi amanti vincoli di attrazione di complementarietà reciproci affinché si cerchino e si trovino se non in questa vita certamente nell'altra affinché si amino si desiderino si godano e si possiedano nell'ineffabile e gioioso modo celeste della patria ovviamente come vedremo più avanti cominciamo a prendere appunti non si tratta di piaceri coniugali tenuto conto che nel cielo non ci sono matrimoni né noi beati appunti potremmo essere soddisfatti con piaceri così piccoli e brevi pensa commento ovviamente necessario c'è molta gente che pensa che non si possa vivere senza sesso e che se uno pensa che cos'è il piacere è quello se non c'è quello che che razza di vita è noi beati non potremmo essere soddisfatti con piaceri così piccoli e brevi cioè oltre alle motivazioni diciamo così di altro genere per cui questa roba è paradiso non c'è perché se anche ci fosse ma manco la calcolano neanche la calcolerebbero i beati che è che è sta cosa che ci faccio che ci faccio e questo mi si permette di dire una cosa che è un spezzamento di lancia sapete che a me una volta uno mi fermò per strada un ragazzotto in una città del sud Italia io stavo con la veste talare uno abbastanza maleducato e sfrontato dice ah padre ti posso fare una domanda e mi chiese come era possibile che io potessi resistere e vivere senza conoscere i piaceri dell'amplesso carnale con una donna ora in paradiso ci sono piaceri più grandi ma attenzione che solo chi ignora certe cose ignora che le delizie le consolazioni le gioie che prova una persona vergine che entra in un rapporto profondo con il signore io sono stato fidanzato tanti anni conosco la bellezza dell'amore umano ma io davanti a dire ma non ho mai avuto nessunissimo rimpianto di nessun tipo non c'è proprio nessuna aspirazione cioè non ci penso non lo cerco non c'è proprio è una cosa che non c'è cioè felicissimo ma non per dire ma che brutta vita non c'è una persona vicino non posso sentire il calore ma quando mai ma non esiste proprio oppure ti sei privato dei 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 piaceri del contatto con una donna di avere i figli ma non ci si pensa proprio mai e io mi sono sempre chiesto dato che scandali e cose di questo genere succedono che razza di vita o che razza di vocazione abbia una persona che che fa certe cose perché se tu vivi quello che stai vivendo ma non ti passa neanche per l'anticamera del cervello o vuole venire il diavolo a fare qualche tentazione ti accomodi non ti fa proprio né caldo né freddo quindi questo credo che sia un piccolo come dire la vita virginale era chiamata quindi da i tempi dei padri della chiesa una vita angelica non soltanto nel fatto che come gli angeli non c'è questa cosa no ma l'angelo è colui che è vicino al signore quindi le gioie spirituali si sitono su un altro livello ma molto superiore è questo qui per cui provocano il disprezzo delle gioie più basse come negli abitanti del cielo questo è quello che sto cercando di trasmettere e riprendo la lettura questo inaudito amore umano celeste è la realizzazione piena e gioiosissima dell'amore di carità che più avanti vi spiegherò è chiaro che a causa del peccato del mondo molte volte non si avvertono o non si possono realizzare in questa vita i legami di complementarietà amorosa programmati dal creatore perché questi vincoli si sono offuscati deformati hanno quasi perso il loro fungore di attrazione dovuto all'età ereditaria alle tracce di malattie ai costumi inadeguati a povertà e ignoranza tutto ciò è conseguenza del peccato cosa sta dicendo è stato il peccato ad impedire che questi amori che comunque si attueranno in paradiso si possano attuare anche qui oppure come nel caso nostro sono amori impossibili sulla terra ma che saranno interamente compiuti nel cielo ti spiegherò dopo perché li permette l'altissimo un amore impossibile perché quello c'era 8 anni e quella ce ne aveva quasi ce ne aveva 20 quasi quindi sarebbe no ciò nonostante dobbiamo andare verso la fine che vedo che questi legami d'amore stabiliti dal Signore esistono e perdureranno eternamente ti dirò di più perché si è fondato il legame reciproco d'amore attenti è sufficiente che esista l'attrazione amorosa in uno solo degli amanti onesti della terra come del resto nel suo caso poiché l'amore lecito che incomincia in questo mondo è sempre corrisposto e indefettibile nel cielo già che non si oppone alla divina volontà ci fermiamo con questa frase capito? cioè se tu hai avuto un'attrazione amorosa lecita attenzione lecita non significa perché poi più avanti parlerà tenere l'amata di questo qui cioè in questo mondo Dio ha stabilito per sua ineluttabile volontà che ci sia il matrimonio monogamico quindi non si possono attuare molteplici amori tra persone di sesso diverso anche non consagrati però per esempio quell'amore di quel bambino verso quella ragazza abbastanza adulta già quasi in età di sposa era lecito e quando sarà conosciuto in cielo sarà ricambiato vedete il grande galateo anche celeste so che una persona mi ama mi ha amato ricambi l'amore lecito che incomincia in questo mondo è sempre corrisposto e indefettibile nel cielo quindi è solo questione di tempo basta avere un po' di pazienza non solo un po' di pazienza ma basta lavorare assiduamente in questo mondo perché a tutto questo che a questo non stiamo neanche ancora neanche al preaperitivo però insomma già qualcosa penso che ci si lasci intravedere di quello che ci attende stavolta metto qualche segnetto per ricordarmi la prossima volta con precisione dove stiamo ad evitare ripetizioni intanto ci salutiamo e ci aggiorniamo a venerdì prossimo se Dio vuole ringrazio i numerosi partecipanti in diretta insomma sono numeri un pochino superiori alla media quindi ne ringraziamo il Signore non è questa roba roba per me sono contento se semplicemente se tutto questo può far piacere ed edificare e creare convinzioni operative di fede in molte in molte persone un sacerdote esiste soltanto per questo quindi non si cercano fame né successi né grandi numeri per carità ma solo che le anime possano essere felici di vivere la cosa più bella che esiste in tutto l'universo che è la nostra santa fede divina e cattolica ben amici basta con le chiacchiere ci vediamo se ti vuole la settimana prossima e che Dio vi benedica e la santa vergine sempre tutti vi protegga